Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, Date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri ai familiari, libro 14, parte 05, Cicerone a Terenzia e Tullia, vai alla traduzione in italiana vai all'approfondimento su Cicerone situa e Tullia, lux nostra, valetis, ego et suavissimus Cicero valemus, Pierre aida soct, Atenas venimus, cum sane adversis ventisusies semus tardeque et in comoda navigassemus, de nave exeuntibus nobis sacastus cum litteris praesto fuiuno et vicesimo dai, sane estrenue, acepitu as litteras, quibas intellecti te vereri, ne superior mai i redditae non essent, omneis sunt redditae diligentissime queate perscripta sunt omnia, idque mai i gratissimum fui, ne quesam admiratus anche pistolam, quom acastus attulità, brevem fuisse, iame inim e ipsum expectas sive nos ipsos, qui quidem quom primum ad vos venire cupimus, etsi, in quom rem publicam veniamus, inteligo, coniovi e inimax multorum amicorum litteris, quas attulità acastus, ad armarem spectare, ut mai, cum venero, dissimulare non liceat, quid sensiam, sed, quoniam subeunda fortuna est, eo citius dabimus operamut veniamus, quo facilius detotare deliberemus, tu vellim, quod com modo valetudinis tuae fiat, quom longissime poteris, ob viem nobis prodeas, d'ereditate preciana quae quidem mai magno dolori est, balde in emillum amavi, sed hoc velim ciurs, sia uccio ante meum advenciam, fiet, ut pomponius aut, siis minus poterit, camillus nostrum negotium cure, nos, cum salvi venerimus, reliqua per nos agemus, sintuiam Roma profetta eris, tamen curabis, ut ocita fiat, nos, si diadiuvabunt, circiterai das novembres in Italia speramus fore, vos, mea suavissima et optatissima terentia, si nos amatis, curate ut valeatis, Ateni, di 15, cal novembre, vai al testo del libro 14, parte 1, Tullio a Terenzia, a Tullio la e al figlio Ciceroni vai al testo del libro 04, 06, Cicerone a, Servio sul piccio, de ai familiari di Cicerone vai al testo del libro 14, 07 12, Cicerone a Terenzia e Tullia, de ai familiari di Cicerone.